medici nel mirino il ministro ora basta dopo i due fatti di violenza negli ospedali napoletani il ministro della salute roberto speranza parla di episodio inaccettabile la croce rossa accusa peggio che in guerra e intanto l'asl annuncia l'arrivo di telecamere a bordo delle ambulanze video shock sui botti prime denunce capodanno come un campo di battaglia tra spari esplosioni e cumuli di rifiuti in fiamme prime denunce a torre del greco l'ira del sindaco palomba al microfono di 696 tv la follia e la violenza di via fontana offendono tutta la comunità le parole della fascia tricolore smog sono nove le città fuori legge il rapporto malaria di lega ambiente napoli tre comuni pinquinati ma il record negativo spetta san vitaliano dove i limiti vengono sporati ogni tre giorni male anche pomigliano d'arco nocere inferiore e casoria corruzione arrestata ex prefetto di benevento a poche ore dalla notizia dell'indagine questa mattina paola galeone è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari al prefetto di cosenza viene contestata l'accusa di concussione clementino e la droga indaga la digos polemiche dopo il concerto di capodanno anno c'era inferiore il rapper avrebbe inneggiato all'uso di marijuana lanciando cartine e filtri dal palco al vaglio della polizia i filmati dell'evento musicale al quale erano presenti molti minorenni le sfide del 2020 i messaggi ai sindaci sondaggi di 8 channel 696 ad avellino e benevento i cittadini chiedono più attenzione per la vivibilità e il decoro urbano salerno invece si prepara al gran finale delle luci d'artista turisti e commercianti promuovono l'evento ma chiedono più attenzione ai giovani erano questi i nostri titoli buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale di 8 channel 696 lo avete sentito in primo piano ancora le violenze che vedono vittime il personale medico e sanitario degli ospedali della campagna il ministro della speranza ministro della salute speranza dice episodi inaccettabili la croce rossa dice napoli è peggio che un teatro di guerra e intanto l'asl partenopea annuncia la installazione di nuove telecamere proprio a bordo delle ambulanze vediamo nemmeno il tempo di cominciare e l'anno nuovo ripropone i vecchi vizi di quello appena trascorso con medici infermieri e personale sanitario nel mirino dei balordi sono già due infatti gli episodi di violenza registrati negli ospedali napoletani a barra un grosso petardo è stato lanciato sotto un'ambulanza a san giovanni bosco invece una internista è stata presa bottigliata in faccia da un paziente psichiatrico sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della salute roberto speranza che ha affidato ai social il proprio pensiero le aggressioni a chi ogni giorno si prende cura di noi sono semplicemente inaccettabili attuonato l'esponente del governo il ministro ha rinnovato l'invito al parlamento ad approvare al più presto la norma contro la violenza sui camici bianchi perché non si può più aspettare le sue parole anche il presidente provinciale della croce rossa paolo monorchio parla di aspetto inquietante e quelli avvenuti a napoli ha detto sono fatti che non avvengono neppure nei territori di guerra in quanto i mezzi di soccorso ed il personale sono protetti dalle convenzioni internazionali a napoli invece non è così il duro atto d'accusa della croce rossa anche l'associazione nessuno tocchi ipocrate ha stigmatizzato quanto accaduto definendo il petardo esploso sotto l'ambulanza come un gesto di straordinaria gravità di qui l'appello al premier conte al governo a velocizzare l'iter legislativo per la norma che dovrebbe tutelare il personale sanitario vittima di violenze sempre più frequenti capodanno come un campo di battaglia tra spari e cumuli di rifiuti in fiamme prime denunce per la festa festeggiata dai barbari a torre del greco lira del sindaco palomba al microfono di 696 tv l'ho ascoltato per noi simonetta il pariello rifiuti incendi e balli durante i festeggiamenti per il capodanno torre del greco si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia scattano le prime denunce dopo i video pubblicati e diffusi dal consigliere regionale francesco emilio borrelli dei verdi da sempre in prima linea per la legalità nel napoletano il filmato immortale a via fontana zona cento fontane invasa da cumuli di rifiuti in fiamme e roghi provocati dallo scoppio dei botti mentre una musica neomelodica assordante fa da colonna sonora ad uno scenario degradante raccapricciante è una cosa inaccettabile dice il sindaco giovanni palomba che conferma il giro di vita in città invitando i cittadini a collaborare verrà denunciato chiunque ha ridotto le nostre strade a campi di battaglia conferma il sindaco al microfono di 696 tv queste persone hanno le ore contate per gli atti vandalici che hanno fatto nella notte del 31 stiamo in piena attività stiamo cercando di ordinare un poco tutto e chiedo anche a tutti i cittadini o coloro che erano presente e che hanno visto di fare come ha fatto sta facendo il sindaco di andare a denunciare la polizia di sono gli stupidi ma non al quadrato molto ma molto più del quadrato per due motivi uno perché hanno incendiato dei rifiuti quindi ovviamente cose che non è possibile e due per l'immagine della della mia città della città del duro del greco albergatori e turisti intanto promuovono la città di napoli che ha offerto a capodanno uno spettacolo eccezionale resta tuttavia il problema dei rifiuti rosela stranese il 2019 segna un record per l'afflusso turistico a napoli albergatori e turisti promuovono il capodanno e l'organizzazione degli eventi dal concerto di bollani e silvestri a piazza plebiscito ai fuochi d'artificio sul lungomare la lunga notte di festa è piaciuta napoli ha imparato a diventare attrattiva anche per la clientela più alta e per gli stranieri che però sono costretti ad attendere ancora troppo tempo davanti alle fermate le metropolitane aperte hanno giovato al traffico ma nella notte della festa non c'erano bus c'erano invece ancora troppi rifiuti per strada e per centinaia di turisti si tratta dell'ennesima contraddittoria cartolina della capitale del sud bellissima molto caratteristica sotto tanti punti di vista sia del cibo che anche della gente la cultura la bellezza dei palazzi tutto bellissima i napoletani è gente meravigliosa profumi di mangiare dappertutto si mangia sempre e non bastano tre quattro giorni come noi ma molti molti ma molti di più se vuoi vedere napoli tutta napoli ci sono dei quartieri che sono un po diciamo tenuti male purtroppo sporchi e delle zone poi che sono più più insomma più belle più ordinate diciamo che rende caloroso qua soprattutto la la gioia che porta la gente ecco quindi quindi è molto bello lodevole l'impegno degli addetti della sia che sono entrati in azione molto prima dell'alba per iniziare a pulire la piazza e il lungomare purtroppo però non c'è stato altrettanto impegno nelle periferie da ponticelli a scampia pianura i napoletani si sono risvegliati nel primo giorno dell'anno tra cumuli di immondizia non raccolte tanta bellezza che però neanche stavolta si presenta in una cornice all'altezza delle aspettative incidente mortale questa mattina a Mugnano del Cardinale in Irpinia un'auto guidata da una donna di 73 anni finita contro un albero l'impatto è stato violentissimo il sinistro è avvenuto intorno a mezzogiorno lungo la strada statale che collega Mugnano del Cardinale a Monteforte Irpino con molta probabilità la donna ha avuto un malore e poi si è schiantata parliamo adesso di smog nove città campane sono fuori legge Napoli tra le più inquinate la peggiore però in regione San Vitaliano male però anche Pomigliano d'Arco Nocera Inferiore e Casoria ce ne parla Paola Iando San Vitaliano è il comune più inquinato della Campania con 115 sporamenti uno ogni tre giorni segue Pomigliano d'Arco dove i giorni di superamento sono ben 82 chiude il podio Nocera Inferiore con 72 sporamenti sono i dati del report di lega ambiente sono in tutto nove le città campane finite nel mirino dell'indagine che riguarda il 2019 le altre città campane fuori legge sono Casoria con 46 giorni a Versa, Volla, Cerra e San Felice a Cancello sforamenti che si traducono in problemi di salute, costi per il sistema sanitario e impatti rilevanti sugli ecosistemi. Secondo l'Air Quality Report 2019 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente in Italia le morti precoci per particolato fine sono almeno 58.600 senza contare che in Italia i costi legati alla salute derivanti dall'inquinamento dell'aria si stimano fra i 47 e i 142 miliardi di euro. Come ribadiamo da anni non servono misure esporadiche ma è urgente mettere in atto interventi strutturali e azioni ad hoc sia a livello nazionale che locale per liberare le città dalla cappa dello smog rileva Maria Teresa Imparato presidente lega ambiente campania. In questo è fondamentale il ruolo della regione nel predisporre piani e misure oltre a nuovi fondi da destinare a progetti innovativi per definire un'efficace e integrata azione anti smog che cambi radicalmente trasporti, produzioni di energia, agricoltura, industria ed edilizia. L'ex prefetto di Benevento Paola Galeone è stata arrestata ed ora si trova ai domiciliari l'accusa di concussione. Il servizio è di Alessandro Fallarino. Il prefetto di Cosenza ed ex numero uno del palazzo di governo di Benevento fino a luglio del 2018 Paola Galeone è stata arrestata questa mattina a Cosenza con l'accusa di induzione in debita a dare o promettere utilità ovvero per concussione come veniva definito fino a qualche tempo fa il reato. Il prefetto Galeone si trova ora agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Taranto. Come si ricorderà Paola Galeone era finita al centro di un'indagine della squadra mobile qualche giorno fa, avviata dopo la denuncia di un'imprenditrice di Cosenza. Secondo l'accusa Galeone avrebbe intascato dall'imprenditrice che ha poi deciso di denunciare tutto alla polizia a circa 700 euro, proponendo alla donna di emettere una fattura fittizia per 1.220 euro con l'obiettivo di intascare parte del fondo di rappresentanza prefettizio rimasto disponibile. Il prefetto di Cosenza pare avesse proposto all'imprenditrice gli scammottaggi in cambio di 500 euro. L'imprenditrice poi in accordo con i poliziotti della mobile aveva così dato appuntamento alla Galeone all'interno di un bar di Cosenza, incontro che sarebbe stato anche documentato dagli investigatori. All'uscita del locale pubblico il prefetto di Cosenza è stato fermato dagli agenti e perquisito. I poliziotti hanno quindi recuperato le banconote che erano state precedentemente fotocopiate e segnate. Questa mattina l'arresto. Il concerto di Capodanno di Clementino a Nocera Inferiore nel Salernitano diventa un caso dopo l'esibizione del rapper. Infatti la Digos ha aperto un'indagine. Vediamo. Il rapper partenopeo Clementino nei guai dopo il concerto di Capodanno che lo ha visto protagonista in piazza di Azzanocera Inferiore nel Salernitano. La Digos starebbe indagando sull'artista che durante la sua esibizione avrebbe inneggiato più volte all'uso della marijuana. Il cantante si è sempre mostrato favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere. Dal palco nel corso della serata avrebbe lanciato bustine contenenti filtri e cartine utilizzati solitamente per preparare uno spinello. Gli inquirenti starebbero dunque indagando e visionando le immagini del concerto per appurare se possa essersi configurato qualsiasi tipo di reato visto anche che tanti minorenni hanno preso parte alla serata. Prima dell'esibizione la fascia tricolore Maglio Torquato ha preannunciato l'impegno dell'amministrazione nel rilancio del territorio promuovendo anche il turismo con eventi come quello che ha visto protagonista Clementino. Abbiamo pensato molto al gusto dei giovani, dei più giovani ma non dei giovanissimi soltanto, anche dei giovani intorno ai 30 anni. Clementino ormai è una figura nazionale da diversi anni, quest'anno sarà anche a San Re. Siamo ottimisti sull'andamento di quest'anno solare, di quest'anno di calendario del 2020. Parliamo ora di regionali. De Magistris candiderà i suoi assessori ma senza farli dimettere dalla giunta. In corsa Borriello, Clemente del Giudice e Palmieri ma intanto De Ma perde altri pezzi. Vediamo. Luigi De Magistris aveva annunciato una lista di nomi forti subito dopo l'epifania. Stando a quanto è trapelato finora, la lista di De Ma alle prossime elezioni in Campania sarà a buona parte costituita dai suoi fidelissimi, già assessori a Palazzo San Giacomo. La novità è che non saranno obbligati a dimettersi. Una svolta, quella di De Magistris, che faciliterà la discesa in campo di Ciro Borriello e Alessandra Clemente, ma anche di figure come Raffaele Del Giudice, ex vicisindaco di Napoli, oggi assessore all'ambiente e presidente del Lato 1, che stando in giunta in caso di mancata elezione non potrebbe essere recuperato in nessuna delle società comunali perché la norma gli imporrebbe uno stop di due anni. In realtà Del Giudice potrebbe anche guidare la lista a cui lavora il sindaco, lista di cui potrebbe far parte anche l'assessore alla pubblica istruzione, Anna Maria Palmieri. Nell'elenco anche alcuni consiglieri comunali di Dema, scelti tra quelli che hanno superato le mille preferenze in città. Intanto però Dema perde pezzi. Il lunedì scorso Laura Bismuto ha notificato alla segreteria del Consiglio Comunale il suo passaggio nel gruppo misto. Si tratta dell'ennesima perdita di un consigliere di maggioranza per il sindaco, dopo quella di Carmine Sgambati che il 10 gennaio passerà con Italia Viva di Matteo Renzi. Ha poi lasciato la maggioranza che sostiene il sindaco, anche Nino Simeone di Agora, che pare sia ad un passo dal candidarsi alle regionali con Vincenzo De Luca. Nel frattempo De Magistris valuta l'opportunità anche di cambiare il nome alla lista. Un'operazione di marketing politico, utile anche per superare eventuali resistenze di possibili alleati in una coalizione, come per esempio i 5 Stelle, con cui il dialogo è aperto da Messi. Quattro telefoni cellulari di piccole dimensioni senza scheda SIM, carica batterie e cavi USB. Il materiale pronto per essere utilizzato era destinato ad un detenuto di Ariano Irpino. La scoperta è stata fatta dagli agenti della casa circondariale che hanno ispezionato una normale spedizione mediante corriere. Gli oggetti erano stati nascosti in una confezione di biscotti. Ed ora cambiamo decisamente argomento. Il 2020 è appena iniziato e le telecamere e i microfoni di 8 Channel 696 hanno provato ad effettuare una sorta di sondaggio tra i cittadini dei vari capoluoghi di regione, a cominciare da Avellino. Ascoltiamoli al nostro microfono e vediamo quali sono le aspettative per il nuovo anno. Archiviati Natale e Capodanno comincia il nuovo anno e dunque si ritorna alla normalità e alla normale amministrazione. Il sindaco Gianluca Festa nella sua conferenza di fine anno ha elencato una serie di progetti da realizzare per il 2020, ma sentiamo invece cosa chiedono i cittadini per la città di Avellino. È necessario che ripristini le attività e che le menti non vadano fuori. Il 99% di questi giovani non sono più ad Avellino. La città sta diventando deserta con persone vecchie. Chiederei di aggiustare le strade, di togliere un po' di spazzatura in giro perché ce n'è abbastanza e penso che deve fare insomma opere per la città. Normale amministrazione quindi? Sì, normale amministrazione che però viene a mancare, cioè da quello che ho visto viene a mancare. Per l'anno in corso chiederei un poco più di servizi soprattutto per quanto riguarda la viabilità, quindi l'asfalto delle strade insomma in modo principale, queste poi iniziative lavorative. Per questa spazzatura, anche se viene messa in ordine, i vigili trovano sempre qualcosa da ridire. Attuare quello che ha promesso per cui è stato eletto è sempre la cosa fondamentale, tenere gli impegni e fede alle promesse fatte. A me piace, è insomma mia città, mi piace e quindi si sopporta, si tollera anche qualche disagio. Ho trovato un avellino molto bella. Decoro urbano e una maggiore valorizzazione delle bellezze del territorio invece nelle aspettative dei cittadini di Benevento intervistati da Emma Tedesco. Con l'inizio del 2020 è tempo di bilanci ma anche e soprattutto di programmi per il futuro, nelle speranze per il nuovo anno dei sanniti e dei turisti ancora oggi presenti in città, attenzione viene rivolta soprattutto al lavoro e ai giovani ma anche a messaggi di pace e serenità. Di serenità, di salute e di lavoro per i giovani. Ci aspettiamo che le cose cambiano. Che sia migliore di quello passato. Quest'anno, 2020, è l'anno della festa, della vittoria. Tanta salute. La pace innanzitutto. Io spero che cambi velocemente. Un anno soprattutto di pace per tutti. Soprattutto per i giovani serve qualcosa. Ci sia un attimo di presa di coscienza delle negatività che stiamo vivendo. Migliori un po' tutti, anche la città, un po' tutti insomma. Tantissimo lavoro giovani. Per il futuro della città invece in tanti chiedono più attenzione al decoro urbano ma anche alla valorizzazione delle bellezze artistiche e culturali di Benevento. Più pulizia, più interesse, più partecipazione a tante cose. Di rendere la nostra cittadina che è storica, culturale, di creare un po' di attrazione. Una rivalutazione dei quartieri storici. Dovrebbero avere un po' più di... tenerci un po' in più perché è troppo bella. È comunque una città piacevole che si può vivere ancora, vivibile diciamo. Maggior lavoro per i giovani, innanzitutto. Intanto Salerno si prepara al gran finale delle luci d'artista con commercianti e turisti che promuovono l'evento ed anche la città. Sentiamo. Dopo il bagno di folla nel concertone di Capodanno con l'esibizione in piazza Mendola di Rene Grandi e De Negrita, Salerno si prepara al rush finale delle luci d'artista. Promosso l'evento che richiama ogni anno migliaia di persone, capace anche di rafforzare l'economia cittadina e di attirare turisti. È fortunatamente tutto bene, come tutti gli anni si mantiene la tradizione. Grazie al nostro governatore, al nostro sindaco, con le luci ci sono anche molti stranieri, molti turisti. Diciamo che la città non piange mai, fortunatamente. Spero di trovare delle novità migliori, più servizi per i giovani, ecco. Anche posti dove potersi divertire, stare tutti insieme. Per quanto mi riguarda ho sempre apprezzato Salerno come città, la conosco poco però ogni tanto mi piace venire a farci un giro e quindi mi fa piacere essere qui stamattina. Io non sono di qui però ci vengo volentieri spesso e soprattutto in queste belle giornate è bello approfittarne. Aspettative 2020 soprattutto per il lavoro dei giovani e non manca chi rivolge un pensiero alla salernitana in una città fortemente legata ai colori Granata. Prima di tutto il lavoro per i giovani, questa è la cosa essenziale. Poi un anno di salernità per tutti i cittadini e anche un anno di felicità per noi tifosi. Più che soddisfatto anche il sindaco Enzo Napoli che traccia un bilancio lusinghiero. Siamo lusingati per come è andato il concerto, nel senso che c'è stato uno splendido concerto, un'affollatissima piazza, una grandissima partecipazione in assoluta sicurezza e che credo sancisca un bilancio assolutamente positivo per quanto riguarda questa tornata di Lucid Artista. Si riparte con un concerto dell'Epifania a Montevergine prova a voltare pagina dopo il furto degli ex voto della Madonna che ha suscitato sdegno e rabbia tra i fedeli. Ora in segno di solidarietà nei confronti dei frati Benedettini, la comunità di Mercogliano ha voluto sostenere l'organizzazione di un concerto che si terrà domenica 5 gennaio alle 19 presso il Palazzo Abbaziale di Loreto. La manifestazione, fortemente voluta dalla Bate di Montevergine, rientra nel cartellone degli appuntamenti a Natale restate a Mercogliano. La serata si articolerà in vari momenti di spettacolo con numerosi ospiti canori a partire dall'artista Monica Sarnelli che a Mercogliano porterà in scena parte del tour Napoli a colori. Spazio anche alla lirica con la mezzo soprano irpina Antonella Carpenito, reduce dai successi nei teatri europei, voce, pianoforte e violino. La serata vedrà anche la partecipazione della vincitrice del talent Tusiche Bales, l'irpina Enrica Musto. Nella splendida cornice della Sala degli Arazzi ci sarà spazio anche per il racconto della storia e delle origini dell'abbazia con gli attori del clan H. Farmaci e giocattoli sospesi per aiutare i più poveri a Salerno, presentata stamattina al Comune l'iniziativa solidale. Vediamo. Aiutare le fasce più deboli della popolazione attraverso un'iniziativa che coinvolge i servizi sociali di Salerno e il consorzio farmacie intercomunali che hanno presentato a Palazzo di Città l'iniziativa solidale dei medicinali e dei giocattoli sospesi. È un'iniziativa lodevole che sottolinea ancora una volta la capacità e l'importanza di una farmacia comunale e territoriale che diventa non solo presidio della salute ma diventa anche un momento di contatto diretto con gli abitanti del quartiere dove esistono. Quindi un'iniziativa importante, cercheremo di continuare ad impreare i nostri servizi, lo facciamo già con loro, con la consegna a domicilio dei farmaci per gli anziani con Salerno Solidare. Il consorzio farmaceutico intercomunale con la sua rete di farmacie presente nei vari comuni a partire da quella di Salerno si sente impegnato nel proporsi non soltanto come una struttura di vendita di prodotti farmaceutici e parafarmatrici ma come una struttura di servizi, come una farmacia di comunità più vicina al cittadino. In questo senso abbiamo dato incremento col progetto di raccolta dei giocattoli per i bambini più bisognosi a una nuova figura, una nuova forma organizzativa di farmacia, una farmacia sociale, quindi una farmacia che si integri con i servizi sociali e sanitari delle altre agenzie che operano sul territorio per erogare una serie di prestazioni, di sconti, di attenzioni, di attività nei confronti di tutti i cittadini e in particolar modo nei confronti di classi più disagiate. Raccolta differenziata si cambia, al via da oggi a Benevento la rimozione delle campane del vetro. Eservizio. Entra nel vivo a Benevento la rivoluzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. È iniziata oggi infatti la rimozione delle campane per il vetro. Si punta così ad ampliare il servizio porta a porta dal prossimo 6 gennaio. Siamo partiti oggi con la rimozione delle campane, partiamo dalla parte alta della città per andare poi a rimuoverle in tutto il perimetro urbano in modo da poter partire il 6 gennaio con il raccolta porta a porta del vetro in tutta la parte della città. Una novità importante che comporterà pertanto anche una modifica del calendario per il conferimento dei rifiuti in città. Il calendario quindi si modificherà per l'introduzione appunto del domiciliare del vetro che sarà previsto in modo differente tra la zona A e la zona B, quindi la parte alta e la parte bassa della città. C'è stata peraltro un'ordinanza comunale in merito. L'auspicio inoltre è di mettere fine all'abbandono dei rifiuti che spesso avveniva proprio nei pressi delle campane per la raccolta del vetro. Lo scopo principale era oltre che ad un completamento della raccolta domiciliare era anche quello di evitare questo abbandono dei sacchetti e di questo sversamento abusivo nei pressi delle campane che nella serena maggioranza erano vuote, sono vuote, però c'era questa abitudine di lasciare il sacchetto a terra. Quindi speriamo che con l'introduzione si eviti questo fenomeno. Tra l'altro da oggi stiamo eliminando in alcune parti la campana. Speriamo che poi non si prenda l'abitudine di andare dove era una volta la campana a porre il sacchetto, però su questo poi interverremo. Da questa mattina è stato attivato il barco del traffico limitato nella zona del Duomo ad Avellino e non mancano proteste e perplessità. Vediamo. Centro Storico Off Limits. Da questa mattina è attiva la ZTL che dà accesso solo ai residenti. Un altro duro colpo per i commercianti della zona che già lamentano la poca affluenza per la mancanza di servizi. È una penalizzazione ulteriore in realtà perché anziché creare degli indotti, qualcosa per cui la gente venga al Centro Storico, ci sentiamo murati vivi. Persone che venivano anche qui nel salone, parcheggiavano sopra il Duomo cercando un posticino tranquillo. Con i funerali giustamente si avviserà il comando dei vigili e quindi poi giustamente spegneranno la ZTL. Già siamo rimasti due o tre attività, dicono di incentivare il Centro Storico, ma questa cosa è contro l'incentivazione ad avere un Centro Storico più aperto a delle attività. La petizione per istituire la ZTL parte dai residenti, ma alcuni di questi sono comunque poco contenti della chiusura della strada. Io non è che sto molto contento, anche perché voglio dire, poi se ci viene a trovare qualcuno a casa abbiamo difficoltà a farli parcheggiare. Quello in Ceggere non mortorio, ma è più mortorio ancora. I commercianti non sono mai contenti. Seppure guadagnano un milione, loro devono dire sempre che non guadagniamo niente. Ma da parte dell'amministrazione e dalla Polizia Municipale nessun passo indietro. Penso che sia l'unica città in Italia dove il Duomo non era disciplinato. Credo che sia giusto così. Tutto esaurito e grande successo a Salerno per il concerto di Capodanno andato in scena al Teatro Verdi. Vediamo. Tutto esaurito e pubblico entusiasta, il concerto di Capodanno al Teatro Verdi di Salerno è stato un grande successo. L'orchestra filarmonica ha aperto la doppia esibizione Collino di Mameli per poi lasciare spazio ai brani classici del repertorio tipico del primo evento culturale del 2020 al massimo cittadino. Innanzitutto volevo fare gli auguri a tutti i nostri amici di Salerno e anche di tutta la regione, i nostri concittadini di Napoli, Avellino e Benavento che tanto ci seguono e quest'anno non hanno fatto mancare il loro calore perché tutti e due i concerti sono stati davvero un grandissimo trionfo. Tutto sold out, un ringraziamento doveroso alla nostra amministrazione ma soprattutto al presidente Vincenzo Di Luca che ci sostiene e che non ci fa mancare davvero niente. un ringraziamento all'orchestra filarmonica, al coro, a tutti gli artisti, al direttore del teatro insomma al nostro sindaco e grazie a voi che ci seguite veramente con affetto. Io dico sempre che insieme quando c'è una grande squadra si raggiungono dei grandissimi risultati. Io auguro a tutti i bambini, agli anziani, a coloro che hanno più bisogno di affetto, di amicizia, di valori diversi che la musica possa portare loro un messaggio di serenità, di pace e tanta tanta salute e vi aspettiamo, vi aspettiamo per la prossima stagione perché sarà una stagione come quest'anno davvero formidabile. E con questo servizio si chiude il nostro Tg curato in regia da Amato Di Sunno. Io vi ringrazio per aver scelto l'informazione regionale di 8 Channel 696 e vi lascio alle previsioni meteo di domani. Grazie e buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.